Ben ritrovati su Ad Maioravettite. Oggi parliamo di divinità e generi delle divinità, ma prima vi voglio ricordare che se volete sostenere il canale, se il video vi è piaciuto, di mettere un placet e se volete di condividerlo su Facebook o sugli altri social in modo tale che anche altre persone lo possano vedere. Per voi è solamente un click, per noi significa appunto dare la possibilità a molte altre persone di vederlo, per cui se volete sostenere Ad Maioravettite, visto che facciamo tutto a gratis, almeno appunto dateci una mano a divulgare le informazioni che distribuiamo gratuitamente. Veniamo ai generi delle divinità. Allora, gli dèi hanno veramente genere? Ci sono veramente divinità maschili e femminili? Sì, certo, nel mito, anche nella rappresentazione iconografica, esistono divinità che vengono rappresentate come maschili e divinità che vengono rappresentate come femminili. Ma questa cosa qui è proprio così, cioè il Dio proprio in sé ha un genere, c'è un Dio con il fallo e un Dio con una... sto cercando una parola che YouTube non possa categorizzare come di carattere sessuale riducendo la visibilità di questo video. Comunque avete capito con che cosa intendo. È veramente così? Ma... beh, insomma, no, diciamocelo, anche perché i generi sono una questione abbastanza complessa nella raffigurazione delle divinità e certo non vanno intesi in senso letterale umano. Sono degli elementi iconografici esattamente come tutte le altre rappresentazioni iconografiche che descrivono le stesse divinità. Ma adesso vedremo alcuni esempi anche perché questa questione qui sta creando una rivisitazione completamente folle di tutto quello che è il pensiero religioso dei popoli antichi, nel nostro caso del popolo romano, per cui partono siti come matriarcato che sostengono i romani maschilisti, patriarchi, oppressori che sottomettono le divinità femminili o che gli fanno cambiare di sesso apposta solamente perché volevano tutte divinità maschili. È tutta una serie. Oppure ancora prima con gli indoeuropei... uh, con gli indoeuropei è ancora peggio. Gli indoeuropei maschili e violenti, maschilisti e violenti, portano sul popolo pacifico matriarcale pre-indoeuropeo il proprio dominio sottomettendo le loro divinità agli dei degli indoeuropei stessi. Insomma, altri deliri di questo tipo. Cercheremo di fare alcuni esempi perché sarebbero veramente tanti da mettere insieme in un unico video. Basta, spero che sarà interessante e soprattutto cercheremo di capire qual è questo significato simbolico delle divinità maschili e delle divinità femminili. Sigla! Iniziamo dalla questione indoeuropea, non solo perché è per motivi cronologici, ma è anche perché è quella che mi diverte di più. Come è funzionato l'arrivo degli indoeuropei in Europa? E chi erano i pre-indoeuropei? Allora, i popoli pre-indoeuropei, appunto, lo dice la parola stessa, era l'insieme delle popolazioni che abitavano i territori invasi successivamente dagli indoeuropei. Ovviamente io do per scontato che noi stiamo parlando del mondo europeo e, in particolare, dell'Italia. Erano le popolazioni che vivevano qui, prima dell'arrivo degli indoeuropei. Avevano degli elementi caratteristici linguistici propri, avevano un'organizzazione che probabilmente era matrilineare, matrifocale e non matriarcale. Sono tre termini diversi. Matriarcale vuol dire che la donna impera e comanda e ha il potere di decisione su tutto e su tutti. Matrilocale vuol dire che nel momento del matrimonio è l'uomo che va, che si trasferisce a casa della donna. Matrilineare vuol dire che il nome e la trasmissione, che la trasmissione del nome e, in alcuni casi, anche l'eredità va in linea femminile. E matrifocale, che invece significa che nel contesto familiare e sociale la donna ha una maggiore centralità. Ma questo non significa che in queste società fossero le donne ad andare a caccia, o fossero le donne a fare la guerra, o addirittura la guerra non ci fosse. No, erano comunque gli uomini ad occuparsi di queste cose. Con l'arrivo degli indoeuropei invece viene proposta un'organizzazione sociale che è ribaltata, appunto, che è patrifocale, patrilineare. Ma come arrivano gli indoeuropei? Arrivano brutali sul cavallo infilzando qualunque donna incontrassero per il lungo la strada? No, è un processo che dura migliaia di anni. Voi pensate che l'indoeuropeizzazione dell'Italia dura duemila anni con un processo di immigratorio che arriva in tre fasi diverse a piccoli gruppi. Per cui è tutto forché un'invasione violenta. Voi immaginatevi un processo di immigrazione che dura duemila anni. Direste che è un'invasione violenta? No. E infatti non troviamo strati di bruciato, non troviamo alcuna dimostrazione che sia stata una penetrazione violenta. Per cui loro portarono con sé, è vero, le proprie divinità. La famosa triade indoeuropea, che prevedeva queste tre divinità in cima allo Stato, l'organizzazione sociale, Stato è detto in senso ampio, che prevedevano la principale che aveva, che si occupava del diritto e del sacro e della magia, la seconda funzione che era quella guerriera, e la terza funzione che era quella produttiva. Tutto quello che verrà dopo, tutte le religioni pagane che conosciamo, ma anche in parte la mentalità attuale, è organizzata sulla base di questa triade. Ok? Quindi toglietevi dalla testa che è una penetrazione violenta. Di conseguenza togliersi anche dalla testa che tutti i vari miti greci, perché poi continuano ad attribuire ai romani elementi mitici che sono della Grecia. Tutti quei miti in cui le donne divinità femminili o ninfe o le stesse amazzoni venivano schiacciate e sottomesse da una divinità maschile, erano in ricordo di quando gli indoeuropei schiacciarono queste divinità femminili. No, scordatevelo dalla testa perché non è nulla di tutto ciò. Per esempio è venuta fuori di nuovo tutta questa storia col caso di Medusa, con la famosa statua di Medusa che tiene in mano la testa, ok? Ricordate. Su questo abbiamo scritto un articoletto, vi lascio il link in descrizione se ve lo volete andare a vedere così capite da soli perché non c'entra niente con la questione del maschilismo e del femminismo. Bene, sorpassata la questione degli indoeuropei, che spero che sia chiara, veniamo a questioni più strettamente romane. Questa visione secondo la quale le divinità maschili e le divinità femminili corrispondono ai generi dell'essere umano è dimostrazione di una conoscenza davvero superficiale delle religioni pagane, insomma comunque della religione romana. Perché appunto se uno va ad approfondire un attimo di più scopre che la questione è decisamente più complessa. Voglio fare un esempio riprendendo una discussione che ho avuto poco tempo fa con una tizia a proposito della questione del dio Veltumna. Lei sosteneva, perché aveva letto un libro di un tizio, che Veltumna fosse una divinità femminile e che era questa dea pre-indo-europea, appunto etrusca, quindi etruschi, matriarcali e insomma vabbè. Veltumna sarebbe una divinità femminile e che era a capo della civiltà etrusca e che i romani hanno obbligato a trasformare di sesso facendola diventare maschile perché non riuscivano ad estirpare il culto di questa divinità e quindi non volendola femminile hanno imposto che diventasse maschile. Naturalmente questa è una follia. È una follia per moltissimi motivi che se uno conoscesse la storia religiosa di questi due popoli lo saprebbe. Allora, primo, anche nelle raffigurazioni più arcaiche, Veltumna compare come una divinità maschile, nudo, portatore di una lancia. Perché questo? Perché Veltumna quasi sicuramente è un appellativo di Tin. Chi è Tin? È il Giove etrusco e infatti si trova a capo del mondo etrusco. E perché dico infatti questo? Perché la triade capitolina è stata portata a Roma proprio dagli etruschi che mantenevano Giove a capo dello stato romano, aggiungendomi due divinità femminili, Giunone e Minerva, sostituendo la triade arcaica che era composta solamente da divinità maschili che erano espressione della triade indoeuropea. Cazzo, ho già parlato dieci minuti. Ora, se sono stati gli etruschi a portare la loro visione di divinità, erano a comando dello stato ai romani. Ma è possibile secondo voi, e le portano con una divinità maschile al centro, è possibile secondo voi che i romani ritornando secoli dopo gli costringono a cambiare il sesso della divinità del fanum voltumne? È senza senso questa cosa. E infatti non è così, perché come vi ho detto, in specchi come questo, Veltumna compare come una divinità maschile. Poi ci sono altri aspetti strani. Numa Pompilio vietò di raffigurare le divinità, tant'è vero che nella prima Roma gli dei venivano rappresentati con degli oggetti simbolo del loro potere. Giove era una pietra che emetteva scintille, una selce evidentemente, Marte veniva rappresentata da delle lance, Vesta veniva rappresentata dal suo fuoco e in realtà per tutta la storia romana continuerà ad essere rappresentata col fuoco. Per cui, che generi hanno questi? Boh, sembrerebbe che ad un certo punto i romani hanno dato un genere a queste divinità. Alcune maschili, alcune femminili. Non ci dimentichiamo poi che nella storia romana alcune divinità hanno anche cambiato di sesso. Lo so, vi sembra strana questa cosa, ma è così. Robigus, dio maschile della ruggine del grano citato da Plinio e Barrone è un dio maschile e a lui, ai Robigalia, si sacrifica un cane e un capro ogni anno appunto per stornare la ruggine del grano che è un fungo che fa diventare appunto il grano rosso. Mentre in Ovidio e in Columella la stessa divinità si chiama Robiga, è una divinità femminile e gli viene sacrificata una cagna e una capra, sempre il giorno dei Robigalia, sempre per stornare la ruggine del grano. Ora, voi se cercate su Google vi dicono che è una coppia divina. Non è così, non compare da nessuna parte, non compaiono mai accoppiati e il fatto che i vari autori facciano riferimento solo a uno o solo all'altra significa che, a seconda dell'autore o a seconda dell'epoca, questo Benedetto Robigus è un dio maschile oppure un dio femminile. Se seguissimo quest'idea per cui gli dèi hanno un genere in senso maschile dovremmo dire che questo dio è un trans. Naturalmente la mia è solamente una considerazione del tutto retorica, non è così, non esistono divinità transgender nella religione romana. Oppure ancora molti si basano sulla mitologia, sulla costruzione mitica greca applicata e spiaccicata sulla religione romana come se fosse tutta la stessa cosa. Non è così. Ora, se le divinità fossero una questione di genere veramente, ma allora sarebbe evidente che le divinità maschili fanno cose da uomini e le divinità femminili fanno cose da donne. Ovviamente cose da uomini e cose da donne riferito all'epoca romana. Per cui non dovrebbero esistere divinità come Diana legata alla caccia, legata alla luce, legata al plenilunio che è sacro a Giove, tant'è che il nome di Diana ha la stessa radice di Giove, da dieu, dall'indo europeo dieu, che significa luminoso. Quindi non dovrebbe esistere, non dovrebbe essere lì. O ancora Minerva armata, quindi con un aspetto guerriero, che addirittura compare nella triade capitolina, quindi la triade che è in cima allo stato romano, vabbè già detto, non dovrebbe essere lì. Come è possibile? Se le divinità avessero un genere in senso umano, la donna dovrebbe starsene a casa. E invece questa no va in guerra. Oppure abbiamo Giunone Sospita, una divinità che in pochi conoscono e che veniva rappresentata con uno scudo bilobato, una corazza fatta in pelle di capra e una lancia. Anche lei, appunto, armata evidentemente con un aspetto bellico e combatte contro Ercole in alcune raffigurazioni vascolari. Come fa a essere così in una società patriarcale dove le divinità femminili sono state sottomesse a quelle maschili? Infatti non c'è una spiegazione a tutto questo, seguendo il ragionamento di queste persone che pensano che gli dei romani abbiano un genere nel senso umano. La spiegazione va cercata in altro luogo, ovvero che la spiegazione è simbolica, cioè i generi delle divinità vanno trattati esattamente come l'iconografia che le rappresenta, per cui Giove ha un fulmine, ha la barba, ha l'aquila e è maschio. Cioè il genere fa parte dell'iconografia. Ora, l'iconografia sono simboli che trasmettono dei concetti. E qual è il concetto che sta dietro al maschile e al femminile? Beh, il fatto che un'energia, un nome, una forza siano attivi piuttosto che passivi. In che senso? Facciamo un esempio che proprio, secondo me, è quello, è il più chiaro di tutti e quello che rende meglio. Allora, il sole emana luce di per sé stesso, la luna invece riflette la luce del sole. Questa è una cosa che gli antichi già sapevano. Di conseguenza il sole emette una luce che è attiva e la luna emette una luce che è passiva. Per cui il sole è maschile e la donna è femminile. Perché si attribuisce il genere maschile a una forza, un'energia che è attiva e il femminile ad un'energia che è passiva? Beh, voi immaginatevi di essere in una società dove non avete niente. Cioè voi oggi avete internet, potete immaginare qualsiasi cosa e per cui è molto facile. Ma vivete voi in una capanna di sterco e paglia? Anzi, questa cosa qui è ancora più antica, risale al Neolitico probabilmente, forse addirittura prima. Cioè vivete in mezzo al nulla in cui l'unica vostra esperienza è il fuoco che accendete, la cosa che cacciate. Qual è l'unica cosa che guardate con i vostri occhi e che vedete che una parte immette un'energia che nasce spontaneamente e l'altra invece la prende e la elabora e ne porta fuori una risultante diversa. Ebbè la donna ovviamente è l'uomo. L'uomo è quello che nell'accoppiamento getta fuori un qualcosa che è proprio, che è autogenerato e la donna che nell'atto invece lo prende e attraverso la gravidanza lo trasforma producendo un bambino. Quindi è in base a questa analogia legata all'osservazione dei fenomeni che ci circondano che è stata fatta questa considerazione per cui l'energia attiva è quella maschile e l'energia passiva è femminile. Ma è una questione di analogia, è simbolica, è rappresentativa, è iconografica. Tanto più che si sono poi notate ulteriori analogie per cui per esempio si è notato che la luna si accordava con il ciclo mestruale per cui questa cosa si è confermata ulteriormente. Poi la luna muove le acque, influenza le acque, influenza le maree e quindi influenza le acque. Quindi anche la donna è legata all'acqua e si sono costruite tutta una serie di elementi analogici l'uno sull'altro fino ad arrivare alle nostre divinità. Ma vi ripeto, è solo una questione di simbolo. Anche perché poi il fatto che un'energia sia attiva e un'energia sia passiva non toglie di qualità l'una all'altra. Anche perché, scusate, vi pare che la luna sia una cosa brutta e che la luce lunare sia inutile. Ma era fondamentale, serviva per cacciare. Se voi andate in un bosco con... in una notte di luna piena, vi assicuro che vedete tutto quasi che fosse giorno. Certo, lo vedete un po' in bianco e nero, però è tutto chiarissimo e io l'ho fatto, per cui ve lo posso dare per certo. Per cui veramente non toglie niente e anzi appunto viene trasformato qualcosa. Perciò in questi termini vanno viste e vanno intese le divinità maschili e le divinità femminili. Non certo in uno scontro fra generi che, lasciatemelo dire, è anche abbastanza vecero. Certe volte è inutile soprattutto e quindi così. Io vi invito caldamente ad andare a leggervi l'articolo su Medusa che abbiamo scritto, che vi lascio il link in descrizione e basta. Su questo argomento direi che abbiamo detto tutto. Ah, il libro consigliato di oggi. Allora, il libro consigliato di oggi è questo. Il linguaggio della dea di Maria Gimbutas. La povera Gimbutas è uno degli autori più sfortunati, diciamo, dei tempi moderni, perché è vittima, poveraccia, del suo fan club e di quelli che la odiano. Il mondo è diviso tra chi ama la Gimbutas e odia la Gimbutas. Nella realtà lei va presa per quello che è, cioè un autore che ha scritto in un certo periodo storico, in un certo contesto, che ha avuto il pregio di affrontare il tema dei popoli pre-indo-europei, di cercare di dargli una spiegazione, di fare un'analisi di qualche tipo. In modo limitato, le sue teorie sono in buona parte superate, soprattutto per quel che concerne questa visione violenta dell'arrivo degli indoeuropei. Perché? Perché la immaginavano in modo violenta? Perché era ancora figlia di quella antica visione delle invasioni barbariche, come un fenomeno violento, che arrivarono nell'impero romano. Per cui imitarono questa, imitò questa immagine del fenomeno delle migrazioni indoeuropee. Nella realtà, appunto, come vi ho detto, già oggi, appunto, la questione delle invasioni barbariche è stata rivista perché è molto più complicata di un semplice arrivarono e sfasciarono tutto. È veramente molto più complessa. C'è stato anche il momento in cui hanno sfasciato tutto, eh. Ma soprattutto nel caso degli indoeuropei, ulteriori studi, ulteriori scavi, ulteriori evidenze hanno dimostrato che la sua visione non era corretta. Ma non è tutto da buttare. Io questo libro lo trovo molto interessante perché cerca di analizzare gli elementi decorativi. Aspetta, mi avvicino e vi faccio vedere. Gli elementi decorativi di vari popoli pre-indoeuropei che sono stati ritrovati, cerca di analizzarli alla ricerca di un significato che naturalmente è opinabile, ma comunque è sostenuto da del materiale, sebbene, ripeto, sia passata la Gimbutas. E quindi cerca di trovare un significato dietro i simboli. Secondo me è un libro molto interessante, che vale la pena di essere preso e di essere letto, anche se, appunto, con le prenesse che vi ho fatto prima, cioè che, per quanto riguarda la visione dello scontro tra indoeuropei e pre-indoeuropei, è un'autrice, insomma, che è superata, cioè senza se e senza ma. È stato dimostrato che non fu una penetrazione violenta, fu abbastanza pacifica per piccoli gruppi a macchia di leopardo e della durata di migliaia di anni, per cui non può essere stato violento. Ecco, bene, io questo è il libro che vi consiglio oggi. Io spero che questo video sia stato interessante. Vi invito a mettere un placet, se il video vi è piaciuto, e a condividerlo con i vostri amici, perché altrimenti nessun altro lo potrà vedere. Valete ottime, in pace deorum.